Bene ragazzi, oggi siamo qui a prendere questo filuscio e vediamo se ce la farò perché voglio aggiungerlo alla mia colazione Oh ragazzi! Dai ragazzi che ne vado un muovo! Non ci vedo! E' il sé, mondo prudere! Ok ragazzi, ora siamo qui a riprovare Va bene! Oh dai! Dai raga! Dai! No! Perché? Ok! Ancora un'altra volta così! Ma uffi! Bene! Ok dai raga, ce lo portiamo a casa! Ce lo portiamo a casa! Ce lo portiamo a casa! Dai Beppe! Io non so che dire però dai! Sono disperato! Ok ragazzi, proviamo questo ultimo tentativo! Buona! Ok ragazzi, ora siamo qui a prendere la scimmila! E ce la dovrò fare perché è vicinissima alla botola! Buono! Ok! Momento colorioso della mia nuca! Dai! Vai! Prenditi per il corpo! Bravissimo! 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 Nooo! Perchè? Nooo! Nooo! Dai raga, che ce la portiamo a prendere questo scimmione! Nooo! Bene! Bene! Ok dai! Mal top mia! Chi la guardiamo? Ce la possiamo fare? Noo! Siiii!!! Es nuestraа! Mais! Siii! Mais! È nostra! Siiii! Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta a prendere questa male leggera! la testa in vietta e ora aggiungere alla mia connessione condividete e scrivetemi qua sotto con un commento se ne avete presi anche voi dei pelus così grossi alla prossima ciao